Un gioco segretissimo. Io la chiamo nonna grande, ma lei, la mia bisnonna, si chiama Anna. Ha i capelli tutti argentati, con riflessi azzurri come la fatina di Pinocchio. Mette sempre la cipria, il rossetto rosa e profuma di borotalco e acqua di rose. È un po' smemorata e spesso non ricorda neanche il suo nome. A volte fa cose davvero strane, ma anche tanto divertenti. Va al parco con le pantofole, annaffia le hortensie con il vino rosso. Parla con il gatto, il canarino e persino con le formiche. Crede di essere ancora una bambina e che io sia la sua amica del cuore, perciò mi chiama sempre Maria. Nonnina, mi chiamo Simona, le ripeto con tanta pazienza, scandendo le sillabe. Va bene, va bene, Maria, dice lei con la sua vocetta squillante. Facciamo che tu eri Simona. E così tutte le volte. Nonna Grande e io facciamo tanti giochi insieme. Pettiniamo le bambole, tagliamo e cuciamo i loro vestitini. E infiliamo la pasta con lo spago per farne meravigliose collane. La mia bisnonna mi ha anche insegnato a ricamare con il suo telaio di legno che era nascosto in soffitta, in un vecchio baule pieno di cianfrusaglie. Noi due, però, facciamo anche un gioco segretissimo che nessuno conosce. Né mamma, né papà, né nonna piccola, né quella peste di mio fratello Giorgio che si impiccia sempre delle mie faccende. Quando tutti schiacciano il pisolino pomeridiano, io e lei, mano nella mano, in silenzio, in punta di piedi, andiamo in giardino e spricioliamo tanti biscotti sul prato, fini fini come granelli di zucchero. Poi ci nascondiamo dietro un cespuglio e aspettiamo. Dopo qualche minuto arrivano decine di uccellini e noi li fotografiamo a turno con il mio tablet. Ora nonna grande è diventata più brava di me a scattare le foto. Quando rientriamo in casa, incontriamo mamma che però non sa nulla del nostro gioco segretissimo. Sapete per caso dove sono finiti i biscotti che ho messo stamattina nella biscottiera? Ci chiede con le mani sui fianchi. Vorrei fare merenda. Io e nonna grande ci guardiamo fisso fisso negli occhi, facciamo spallucce e insieme diciamo boh! E poi tratteniamo le risate coprendoci la bocca con la mano e strizzandoci l'occhietto. Grazie. Grazie.